Conversazioni, tavole rotonde, convegni, ma anche concerti, spettacoli teatrali, degustazioni, visite guidate, ospiti d'eccezione, come il critico d'arte Vittorio Sgarbi e l'attore Ugo Pagliai. E' quanto si potrà gustare in occasione della sesta edizione del Festival delle Ville Venete, la rassegna che tra il 13 e il 21 settembre prossimi farà tappa in alcune delle principali dimore storiche di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Vediamo che il turista, non solo veneto, non solo italiano, aumenta, vediamo che c'è interesse da parte dei proprietari di aprire le ville perché vedono che aumenta la richiesta, vediamo che l'economia che è la base con la quale possiamo tenere su il concetto di cultura, il concetto di Villa Veneta, il concetto di Veneto, sta crescendo. Allora se riteniamo che l'azienda Turismo in Veneto e il turismo straniero in particolare sia l'azienda su cui puntare, una delle aziende su cui puntare per il futuro, 5 miliardi è quanto spendono i turisti stranieri in Veneto, se è vero che il turista di qualità, quello che cerca la Villa Veneta, che cerca il centro storico, che cerca la città, è quello che cresce e che spende, beh un progetto come questo che apre le ville, che aumenta l'offerta, che fa parlare di sé, che fa parlare al mondo di sé, che fa il passaparola, è un progetto importante, quindi è una sesta edizione ma è una edizione che ci dà merito e frutto del lavoro fatto nel passato.